Macro categoria studi e boutique legali e professionali. Categoria diritto della proprietà intellettuale. Il premio è quello di avvocato dell'anno diritto della proprietà intellettuale. Andiamo a leggere la motivazione. Per la professionalità la comprovata esperienza e la competenza nell'ambito della tutela della proprietà intellettuale e industriale. Per l'obiettivo costante della valorizzazione del cliente la consulenza su misura e la dinamicità. Il premio va a Stefano Previti, Studio Previti. Ed è collegato con me l'avvocato Stefano Previti, managing partner, Studio Previti, associazione professionale avvocato. È un piacere averla qui e complimenti per questo riconoscimento. Grazie, piacere mio. Le chiedo un commento a caldo. Che cosa significa per lei questo premio? Sono molto felice e orgoglioso di questo premio che divido idealmente con i miei colleghi di studio, visto che è un premio che va a gratificare un lavoro che abbiamo fatto in team. Da tanti anni lavoriamo alla proprietà intellettuale, diciamo che è il settore di cui lo studio si occupa di più e credo con risultati molto importanti, soprattutto in alcuni sottosettori come il diritto d'autore, dove effettivamente ci siamo tolti belle soddisfazioni e soprattutto nell'ambito della tutela del diritto d'autore dalle violazioni che avvengono online. Quindi sono molto molto contento del premio e anche della motivazione che mi rende felice. Certo. Insomma, la tutela della proprietà intellettuale e industriale mi inserisco solo per chiederle qualcosa in più rispetto a ciò che lei ha già detto. Abbiamo letto anche, sempre nella motivazione, l'obiettivo costante che vi porta avanti ogni giorno e che porta avanti la vostra mission è quello della valorizzazione del cliente insieme a una consulenza su misura e la dinamicità. Le chiedo, Avvocato, insomma, anche rispetto a quest'anno che è stato particolarmente complicato proprio nella gestione dei rapporti con le persone e come guardate al futuro? Noi al futuro guardiamo con fiducia. Naturalmente l'anno è stato complicato per tutti. Prima ancora che per motivi di lavoro è stato complicato socialmente e umanamente. Speriamo che il 2021 sia un anno di rilancio. Noi abbiamo pensato che così debba essere e abbiamo anche investito nel corso del 2020 in tante attività che vedono al futuro con fiducia in innovazione, in tecnologia, in formazione interna. L'obiettivo deve essere sempre lo stesso. Non ci siamo fatti trovare impreparati dal punto di vista dell'organizzazione lavorativa ma speriamo di tornare a una vita più normale, ovviamente. Beh, sicuramente. Diciamo che però questo anno un po' particolare vi ha dato anche la possibilità di accelerare questi processi di cui lei parlava. Sicuramente sì, perché noi eravamo sicuramente pronti dal punto di vista tecnologico ma la spinta è stata forte e tutti i professionisti hanno preso una confidenza molto veloce con degli strumenti che pure avevamo e con delle abitudini che abbiamo dovuto riadattare molto velocemente. Come diceva lei, la cosa forse più delicata è proprio il rapporto con la clientela. Anche i nostri clienti si sono velocemente riadattati alla nuova situazione però è bello vedersi. Io dico proprio innanzitutto sul piano umano. Eh sì, eh sì. Beh, certo, diciamo che si spera che poi il futuro contempli anche questo però avere un piano B, diciamo che l'esperienza insegna, serve sempre. Assolutamente vero, il piano B bisogna averlo. Io credo che ragionevolmente nel 2021 ancora dovremo un po' soffrire però speriamo che si inizia a vedere la luce presto. E poi ci vedremo presto anche noi, insomma. Intanto, giustamente, complimenti ancora per questo riconoscimento a lei, a bloccato e a tutto lo studio. Previti, quindi porti complimenti a tutti coloro che lavorano a stretto contatto con lei ogni giorno seppur magari in modalità diversa, ma insomma il lavoro viene portato avanti a prescindere da questo. Quindi complimenti ancora di più doppi e alla prossima. Grazie mille. Grazie ancora.